Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, è bello rivedere le vostre facce sorridenti quella che state per vedere è la mia personale lista dei 10 batteristi più influenti al momento provenienti dal mondo del metal ed affini non voglio ripetere i nomi che ho già fatto in altre liste che siano di batteristi estremi o di maghi della doppia cassa nella speranza di farvi scoprire e riscoprire alcuni nomi che secondo me sono davvero degni di nota nel mondo della batteria quindi seguitemi passo passo su quello che vedete e quello che sentite lasciandomi un commento qua sotto ed iniziamo la discussione il primo grande nome del mondo del metal è Mario Duplantier nessuno sta suonando come Mario, vi dico a cuore che lui sta lasciando un'impronta indelebile nel mondo del metal e sta influenzando migliaia di batteristi nei Gojira la sua band nella quale milita con suo fratello che invece ha la voce e la chitarra mescola abilmente componenti del progressive metal, blast beats e ritmi tribali il suo stile vario, maledettamente preciso ed innovativo numero uno nel mio cuore i miei lavori preferiti dei Gojira sono l'enfant savage e magma vale a scoprire assolutamente se non li conoscivi prima e fammi sapere cosa ne pensi con un commento passiamo subito al prossimo Matt Garska come per Mario anche Matt sta suonando cose ed in un modo che nessun batterista ha mai usato prima Animals is Leaders è la band con cui si è fatto conoscere ma essendo un batterista estremamente abile e versatile partecipa anche ad altre situazioni e conduce anche Drum Clinic affollatissime e veramente molto interessanti in questo momento è uno dei batteristi più in auge o di moda sicuramente comunque Matt Garska sta influenzando e sta ispirando moltissimi batteristi che vorrebbero migliorare il proprio linear drumming come il proprio drumming metal e progressive una vera bomba passiamo subito al prossimo Ray Lussier Ray è riuscito a portare innovazione ad una delle band più innovative della storia i Korn band nella quale lui milita dal 2009 ha anche apportato più articolazione ai vecchi brani che suonano on stage ed un suono ben definito ai nuovi album che ha registrato quella band il suo drumming è complesso ma semplice allo stesso tempo con molti orpelli ma dritto al punto e maledettamente preciso vi consiglio caldamente di andarla a scoprire ma passiamo velocissimamente verso il prossimo Federico Paolovic Federico è l'italiano di questa lista una bestia sia a livello italiano che internazionale è ben distaccato dai suoi colleghi noti della scena metal italiana come i super velocisti e si distingue anche per le sue gospel chops e il suo drumming articolato l'ho visto suonare con i The Strange ormai un bel po' di tempo fa però vi assicuro che è stato di assoluta ispirazione lo potete trovare in varie sedi italiane in cui fa lezioni e anche online quindi andatela a trovare ah e vi ricordo se non vi siete iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi al canale in questo momento e di lasciare un bellissimo like se questo video fino a questo punto ti sta piacendo e quindi passiamo subito al prossimo Chris Penny a questo punto del video avrei voluto inserire qualche eroe del metalcore britannico tipo il batterista degli Architects o dei Brimi dei Horizon ma ho voluto includere questo drumming in Chris Penny che è l'ex batterista e uno dei fondatori dei Dillinger Escape Plan gruppo che ha pesantemente influenzato anche il metalcore grazie alle loro ritmiche intricate molto frenetiche e sincopate che si trovano all'interno dei loro brani poi ci sarà sicuramente qualche esperto nell'internet che mi potrà smentire ad ogni modo Chris Penny è un batterista estremamente talentuoso ed oltre alla sua attitudine nella composizione dei brani riesce a offrire anche a soli di batteria molto molto gustosi il prossimo Jay Winberg attuale batterista degli Slipknot come il suo predecessore che non nominerò in questo video anche se ci starebbe anche lui è un grandissimo batterista e sta influenzando una generazione dalle radici punk e hardcore ma anche rock visto che ha collaborato anche con Bruce Priesting riesco a sentire le influenze che Joy Jordinson ha avuto sul suo drumming Jay E come Ray Luiser è entrato in un'istituzione non in una band quindi in molte cose è simile a Joy Jordinson però in realtà si riesce a percepire che ha portato una nuova ondata di energia fresca alla band andatela a scoprire il prossimo non so se è così anche per voi ma ci sono due batteristi che nella mia mente si accomunano non solo perché condividono il nome ma anche per disumanità del mondo di suonare innovazioni che stanno portando al mondo della batteria e tecnica ai massimi livelli uno è Matt Garska e ve l'ho già parlato e il secondo è Matt Alpern il batterista dei periferi come alcuni di voi avranno già visto quando ho spiegato il metal estremo a mia nonna se non avete visto quel video ve lo lascio qua su da qualche parte Matt Alpern sta anche inserendo dei blast beats all'interno delle sue composizioni con i periferi ad ogni modo anche quello che ha suonato negli album precedenti ha assolutamente dell'incredibile un vero animale tecnica e musicalità a livelli altissimi wow stiamo procedendo velocissimi verso la fine di questa lista mancano solo gli ultimi tre e quindi passiamo al prossimo ma prima se parlo di Eloy casa grande mi vengono due cose in mente muscoli e pacche senza fine suona a dei volumi assurdi e anche lui inserisce dei blast beats all'interno delle esecuzioni ma visto che devono essere coerenti dinamicamente con il resto del brano li suona ad un volume spaventoso un altro sottratto distintivo è l'inserimento della coordinazione e di pattern ostinati che suona con i piedi che richiamano alla tribalità tipica del sound dei sepoltura ovviamente però senza penalizzare la sua esecuzione potentissima adesso preferirei rimettermi la maglietta e passare al prossimo Brann Deylor ultimamente sono ossessionato dal drumming di questo batterista che avevo già citato nei batteristi cantanti ma solo come menzione onorevole meno male il suo drumming è stato definito da Mike Portnoy come uno dei più innovativi al momento nel genere il suo drumming è anche stato definito caos organizzato e io sono d'accordo non credo che i Mastodon siano una band che possa essere capita al primo ascolto hanno bisogno di essere digeriti maggiormente ma dopo ci regalano delle gioie bene in questo mondo di batteristi a mio avviso non c'è un migliore ed un peggiore ci sono solo stili vocazioni e attitudini diverse in questo video mancano moltissimi batteristi e ne potrebbero essere aggiunti di grandissimi quindi fammi sapere tu con un commento in questo momento chi avresti aggiunto a questa lista e passiamo al prossimo Danny Kerry un altro batterista in una delle band più innovative che suona e che mescola vibrazioni ed energie diverse i Tool per me non sono mai stata una band di facile ascolto ma devo ammettere che il drumming di Kerry è assolutamente innovativo a partire dal suo setup che è un set ibrido quindi una parte acustica e una parte elettronica dei pad elettronici che cambiano l'intonazione a seconda di dove vengono colpiti mischiati a due casse di bronzo pesantissime un charleston messo centrale controllato con un remoto e ha non dei tom ma dei roto tom Danny è un percussionista dentro a un batterista infatti ha suonato ed ha studiato le tabla con un grande maestro per molto tempo e all'interno di alcuni brani dei Tool si possono sentire appunto le tabla suonate da lui bene siamo arrivati in fondo a questa lista spero che vi sia piaciuta e spero che ne abbiate preso spunto che abbiate voglia di studiare di suonare di migliorare di vivere di più quindi anche per questa volta è tutto io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao